Trasformazione digitale nell'immobiliare oggi siamo con Diego Caponigro fondatore e amministratore di Regold ciao Diego e bentrovato ciao Gerardo grazie per l'invito allora partiamo subito Regold una storia vera che parte proprio da un garage dove eravate dieci anni fa ma allora non voglio fare come i soliti Google Apple ma la verità è questa in realtà non è un garage ma è una cantina una cantina che per i primi anni ci è servita tantissimo e c'era ovviamente freddo umidità ma questo è stato faceva parte del pacchetto di allora una visione che è nata da una mia intuizione avevo studiato un po il fenomeno che stava succedendo un fenomeno sociale che stava succedendo negli Stati Uniti e mi riferisco in particolare a quello che Amazon che sapevo benissimo sarebbe arrivata in Italia prima o poi e diciamo che noi abbiamo anticipato un pochettino i tempi con l'idea di creare un e-commerce di servizi per gli agenti immobiliari a dire adesso che sapevo che sarebbe arrivata Amazon e che avrebbe cambiato le regole del gioco è presuntuoso diciamo che è meglio dire speravo che sarebbe arrivata no però c'erano tutti gli elementi per per dirlo quindi di fatto poi ci ho azzeccato però devo essere anche sincero all'inizio Gerardo è stata molto 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 dura difficile difficile perché parliamo del 2010 siamo partiti ad agosto 2010 poi abbiamo fatto dieci anni ufficiali come costituzione società a gennaio di quest'anno quindi sono freschi freschi di compleanno però all'inizio è stata difficile perché dire agli agenti immobiliari spiegare cosa facciamo e dire che esiste un e-commerce di servizi dove devono pagare anticipatamente era impossibile praticamente poi con l'anno successivo con l'arrivo di Amazon nel vero senso della parola che ha iniziato a vendere libri mi ricordo ha sdoganato questo concetto completamente e oggi ci troviamo oggi la normalità stiamo parlando di dieci anni fa ma sembra preistoria ci siamo un po' dimenticati concordo senti provo a fare un breve riassunto allora misure e planimetrie servizio antiriciclaggio firma elettronica avanzata brevettata registrazione dei contratti di locazione e di preliminari di compravendita assistenza legale on demand spero di non aver dimenticato nulla avete ripreso servizi che una volta passavano fisicamente dagli uffici della pubblica amministrazione e in più avete creato servizi impensabili fino a poco tempo fa quali sono gli elementi che risultano vincenti in un mercato che sta vivendo una lenta transizione verso il digitale ma allora diciamo che io mi diverto dove ci sono le difficoltà creò il business quindi cerco di digitalizzare il processo standardizzarlo per farlo arrivare o per distribuirlo e farlo arrivare ovviamente ai miei clienti che sono solo esclusivamente agenti immobiliari noi non ci rivolgiamo ad altri target quindi questo per noi è molto importante la verticalità dei servizi è fondamentale questo nel corso del tempo ha creato ovviamente un certo tipo di know how e che ci sta ripagando nel lungo periodo l'innovazione dei processi hai detto bene trasformazione digitale significa che chi non è arrivato a pensare di digitalizzare un processo che apparentemente sembra veramente non solo apparentemente sembra veramente complesso ovviamente io lì ci metto la testa mi diverto come ti ho detto e cerco di studiarlo e fare una bella analisi di studiarlo e poi ci mettiamo con il nostro reparto it di sviluppo e ricerca e lo realizziamo con mille difficoltà prova immaginare con con mille cose che nel mentre succedono ovviamente ci vuole del tempo ci vogliono delle competenze di un certo tipo questo è vero non è semplice non è assolutamente semplice però alla fine evidentemente riusciamo a fare qualcosa no evidentemente sì devo dire insomma dove c'è un problema quindi insomma fiuti sempre un'opportunità di business e quindi provi a risolverlo no e quindi si creano mercati sempre nuovi e si si guarda adesso tu hai citato l'ultimo servizio che abbiamo lanciato settimana scorsa che la prima assistenza legale anche qui abbiamo standardizzato il processo in modo digitale quindi è un servizio che sta avendo grande appeal siamo veramente contenti della risposta degli agenti immobiliari ma ti dico la verità ne ho altri nel cassetto che stiamo realizzando quindi l'idea ci sono ci andiamo avanti e siamo contenti bene allora innovazione digitale trasformazione digitale ma anche se vogliamo valore legato all'esperienza io so che per voi l'esperienza del cliente nell'acquisto ma soprattutto nel servizio di assistenza è molto importante come state affrontando questa sfida ma allora io parto dal nostro payoff il nostro payoff recita i numeri 1 dei servizi per agenti immobiliari quindi come posizionamento è chiaro nel senso che noi puntiamo moltissimo sulla qualità e non sulla quantità e basta anzi diciamo che quando una proda nostro sito è scritto a chiari lettere chiunque può vederlo risolviamo i problemi quotidiani degli agenti immobiliari questo cosa significa significa che nel momento in cui un agente immobiliare ha un problema appunto quotidiano può chiamare qua da noi in azienda abbiamo un team di 22 persone che rispondono al telefono ma rispondono anche a ticket di assistenza online e diciamo abbiamo il compito di stare al telefono finché non si risolve il problema questo per noi è fondamentale è diciamo il nostro fiore all'occhiello l'assistenza chiaro allora la trasformazione digitale è un contorno utile ma non indispensabile come sostengono ancora alcuni resistenti allora è bellissima domanda no io non sono d'accordo con i resistenti nel senso che se fosse così non sarei partito dieci anni fa con questa visione e quella visione di dieci anni fa è ancora più attuale oggi pian piano che andiamo avanti ovviamente le generazioni nuove già in x piuttosto che millennial generazione zero aumentano sempre di più quindi è scontato che ricerchino sempre hanno un dialogo costante con il digitale con l'online ci cerchino online cerchino il modo di risolvere i loro problemi quindi questo è un primo elemento che ti do per quanto riguarda invece gli operatori che si sentono più anziani dico così perché ci sono tanti che ogni giorno sentiamo e ci dicono ma io 60 anni non riesco a usare la tecnologia non è assolutamente vero perché la tecnologia se fatta bene realizzata progettata bene è molto semplice noi ci basiamo molto su una user experience easy semplice questo ovviamente agevola la gente immobiliare per quanto riguarda nel nostro caso l'utilizzo della nostra piattaforma e li solleviamo da tanta burocrazia cosa si traduce in questo si traduce nel maggior tempo disponibile libero per fare le vendite per fare le locazioni per fare le attività che è considerata il core business della gente immobiliare l'attività primaria sono d'accordo con te guarda lo sai bene allora nel mercato insomma gli scenari oggi anzi le posizioni degli agenti immobiliari sono sostanzialmente tre no abbiamo abbiamo il modello di mediazione tradizionale però analogico abbiamo il modello che vale estremo a posto che quello digitale e poi abbiamo diciamo anche il modello intermedio che è il cosiddetto modello ibrido quale suggerimento daresti tu da imprenditore che hai insomma che ha trasformato un business che in origine in buona parte era analogico poi in in digitale quindi ai 46 mila agenti immobiliari in attività per affrontare un mercato che è sempre più e sarà sempre più dematerializzato ma tu gerardo sai che io sono un esploratore sono curioso quindi è da lì nasce appunto l'idea dieci anni fa di ricreare regol quindi ti potrei rispondere in questa maniera se fosse un agente immobiliare comunque non mi non mi priverai dell'opportunità comunque di testare quella che è l'innovazione poi posso decidere se lasciarla da parte se mi serve se ho un ritorno sull'investimento quando magari faccio un acquisto di uno strumento nuovo digitale ma comunque in ogni caso in un certo senso sono obbligati a testarla testarla sulla loro per attività quotidiana certo certo ottimo diego guarda grazie grazie per la tua testimonianza per insomma il tuo contributo anche alla digitalizzazione del della mediazione immobiliare grazie ai servizi di regold e sono certo insomma che ci stupirai ancora nel corso dell'anno con nuovi servizi grazie per essere stato con noi grazie a te gerardo ciao ciao a tutti benissimo a presto al prossimo video